Mi chiamo Pietro e ho quasi 13 anni. Questa è la mia scuola, il Galileo di Marina Piccola. Questa è la mia classe, la seconda D. Io sono stufa di essere sempre quella che non fa mai errori. Questa è Livia, Miss Perfettina. Questa è Daniele, un tipo a posto. È proprio arrivato il momento di allargarlo, il mio mondo. Isabella e Monica. Le due paladine della giustizia. Ragazzi, silenzio! Marianna, che si crede un po' Miss Universo. Grazie. Daniele e Giulio. E ogni volta ne fa una. Andate a casa a fare i compiti con mamma. Siamo arrivati prima noi. Facciamo una sfida vera. Che fatica per dare il primo bacio. Perché non facciamo una gara? Ma la smetti di sfidare tutti. So che mi starai vicino quando avremo tutti i contro. Che non mi... Per me sei molto più di un amico. C'è un patto di sangue, non è scritto con l'inchiostro. Ti voglio bene. È una cosa bruttissima. Voler qualcosa, ma non poter averla. Ti chiedo come stai, cosa fai, dove vai. Vi ho convocato per una comunicazione. Abbiamo preso la decisione di chiudere la scuola. Perché ho sempre paura di parlarti di me. Mi mancherai. Di fidarmi di te. Io ti saremo sempre un mio amico. Di sognare per vivere, vivere. Siamo come due isole, isole. Questa scuola non può chiudere. Ma ti parlo di me. E mi fido di te. Siamoci da fare.